Buongiorno, ben trovati. Giovedì 27 settembre 2018, appuntamento consueto della mattina con la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, ovviamente la notizia principale che ritroveremo anche sui quotidiani nazionali riguarda l'arresto di tre dei banditi che assaltarono qualche giorno fa la casa di due pensionati lancianesi. Vediamo il titolo, incubo finito, vedete presi i banditi, Lanciano rapina a sciocchi in villa, tre romeni ventenni incastrati dalla scritta su una felpa, hanno i volti di ragazzini, in fuga il capobanda che ha tagliato l'orecchio alla vittima. Vedete la foto dell'uscita dal commissariato di Lanciano di uno degli arrestati. Poi vedremo anche il servizio, vediamo anche gli altri titoli, l'edizione di Pescara del centro, affidato il servizio delle mense, Pescara sì della terza ditta in graduatoria, oggi si decide sulla doppia merenda. E poi in basso mercatino etnico, pronto il bando per cento posti e poi il lutto, il commercio cittadino, addio a Santa Venere, il pasticcere dei colli. Vediamo anche l'edizione di Chieti Lanciano vasto del centro, oltre a ritrovare ovviamente come su tutte le altre edizioni la notizia dell'arresto dei banditi protagonisti di questa rapina shock in villa Lanciano. Ritroviamo anche altre notizie, Chieti il Maruccino torni ai teatini, lo sdegno della città dopo l'annuncio del sindaco di chiudere il teatro per la mancanza di fondi. Basto, truffa sul web con le auto, chiesti 28 anni di carcere, poi Lanciano investito sulle strisce e in rianimazione un 82enne lancianese che è stato trasferito all'ospedale di Pescara. Vediamo anche l'edizione di Teramo del centro, vedete la notizia che riguarda l'Amadori, l'azienda romagnola leader nel nostro paese, nel campo agroalimentare, investe 36 milioni, potenziati lo stabilimento di Mosciano e gli altri impianti in Abruzzo. E poi un altro titolo che riguarda invece il dopo terremoto, i sindaci terramani uniti, il cratere va cambialato. E poi anche un richiamo di sport perché quella di ieri è stata una giornata di campionato in Serie C e in Serie D, in Serie C pareggio prezioso per il Teramo 1-1 a Imola. Il vantaggio dei biancorossi con Speranza dura due minuti. Vediamo anche la prima pagina del centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, braccianti spacciatori in trappola, sette arresti tra L'Aquila e Marsica, documentati 77 episodi di eccessione di cocaina. E poi Avezzano, indagini sul terrorismo, marocchino espulso, Sulmona licenziato, l'operaio che ruba formaggi. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, presa la gang, il capo in fuga, lanciano chirurgo e moglie seviziati, manette tre romeni, stavano per scappare in auto. La pista dei telefonini, forse una donna complice, la gente tenta il linciaggio degli arrestati. Vedete le reazioni, i coniugi ancora in ospedale, la donna aggredita e rapinata, lo Stato non li deve perdonare. Vediamo anche altre notizie. Chiesa bruciata a Montesilvano, il paraco accusa i vicini, sospetti su due persone, ce l'hanno sempre avuta a morte con noi. E poi Chieti, botta in cella la detenuta, cinque condanne. E poi vediamo in alto l'evento, Chieti festeggia nel centro storico, vedete il titolo, con la notte dei ricercatori. Poi il calcio di Serie C, il Teramo in vantaggio, Maimola finisce uno a uno. E poi il Pescara con Mancuso Bomber Brasil, dribbling, sombrero e gol. Tre reti per l'ex attaccante della San Benedettese con il Pescara, che è ancora imbattuto in campionato dopo cinque giornate. Nell'ultimo turno, ricordiamo, la vittoria casalinga con il Crotone. Siamo alla prima pagina della città, Madoro investe 36 milioni di euro. E poi, per Simpli, nessun accordo sugli incentivi ai trasferimenti, proposta irricevibile. Vediamo altri titoli. Dalberto, sindaco di Teramo, prova a fermare la secessione. Il sindaco ha incontrato i cittadini della frazione Ribelle. E poi, bando per la gestione del parco fluviale. Ambiente torna domenica a Teramo. Puliamo il mondo. E poi anche sul quotidiano La Città c'è ovviamente spazio per la gara del Teramo, che a Imola pareggia per uno a uno. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, manovra sfida a Tria sul deficit. E poi andiamo in basso, anche sul Corriere della Sera ritroviamo la notizia dell'arresto dei banditi di Lanciano. Rapina in villa, la folla assedia, i tre arrestati. E poi vedete qui la balena bianca che conquista il Tamigi. L'eccezionale avvistamento di un esemplare di Beruga sul fiume Tamigi. Siamo al fatto quotidiano. Di Maio e Salvini, deficit al 2,4%, Tria non ci sente. Poi la consulta boccia pure mezzo Jobax. È incostituzionale. Vediamo il prossimo quotidiano che è La Repubblica. La guerra del deficit, Tria assediato. Di Maio via, i tecnocrati voglio il 2,4%, dice il vicepremier. Vedete poi in basso un titolo che riguarda l'inchiesta sul ponte di Genova. L'ingegnere e le 62 obiezioni che accusano autostrade. Vediamo il messaggero nazionale. Deficit al 2,4%, intesa Movimento 5 Stelle Lega, Tria in bilico. Non sfascio i conti. E poi la vicenda di Lanciano, anche sul messaggero. Banda inchiodata da un video. Una cimice ha sventato la fuga. E poi un richiamo di sport, perché ieri c'è stata la giornata di campionato anche in Serie A. Pastore sveglia la Roma, 4-0 al Frosinone e a Udine. Basta la Lazio 2 che passa alla Dacia Arena. Il manifesto, vedete il titolo con corredo di foto, il governo dai numeri. E poi in alto, Jobact, rivincita della CGL. Su Renzi incostituzionali, le indennità per il licenziamento, troppo basse. Siamo a libero, i genovesi contro Grillo vogliono protestare sotto casa sua. Il governo pasticcia col decreto per far ripartire Genova. Il comitato degli sfollati, dice, siamo ferocemente arrabbiati e pronti a manifestare. Vediamo il sole 24 ore. Deficit, assedio al ministro Tria. Lui resiste, con me, non oltre l'1,9%. Il quotidiano, la verità, vedete a centro pagina, parla FOA, un marziano alla guida della RAI, via un po' di casacche, dice il neopresidente. Poi in basso, anche sulla verità, ritroviamo il titolo che riguarda Genova. Adesso basta, dateci il decreto per il ponte. Ponte, siamo al tempo di Roma, scemi e più scemi, aboliremo la povertà, più sesso con reddito di cittadinanza. Basta vaccini, grillini, sempre più lo sbaraglio, caos su manovra e ponte. C'è da aver paura, titola. Il tempo, la stampa, manovra, niente intesa, Tria in bilico, i grillini, ce ne faremo una ragione. Patto Salvini di Maio, deficit al 2,4%, ma il DEF atteso oggi potrebbe slittare. Vediamo poi a centro pagina il decreto sul ponte, non c'è grillo, teme la protesta sotto casa. Vediamo il giornale, rischio bancarotta, scontro nel governo, la minaccia di Lega e 5 Stelle. Con la manovra sfioriamo il deficit al 2,4%. E poi vediamo un altro quotidiano con la prima pagina del mattino di Napoli. Vedete, Lega e Movimento 5 Stelle, deficit al 2,4%. Tria in bilico, dice, tutelo l'Italia. Proseguiamo con il secolo d'Italia, Vergoglia Macron. Giorgia Menoni attacca il presidente francese, che aveva detto c'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali. Ha detto Macron, il secolo XIX quotidiano genovese, il decreto fantasma, adesso trascina con sé l'incubo del terzo valico. Proseguiamo, avvenire il Papa e i cinesi, una fase nuova al sinodo due vescovi di Pechino, dopo l'accordo tra la Santa Sede e il governo cinese, lettera di Francesco, già la prima svolta nelle relazioni. E poi, manovra, Tria resiste, ma il tetto del 2%, no. Vediamo anche, questo era l'ultimo quotidiano preso in esame oggi per quanto riguarda l'edicola nazionale. Torniamo al centro, la rapina shock di Lanciano in primissimo piano. Sono catturati i banditi a Guzzini, li ha traditi una scritta sulla felpa, tre sono in carcere. Il capo è fuggito a Napoli, pedinati grazie a uno stratagemma sotto la golf nera della fuga. Era stato piazzato un GPS, il ricercato è il più crudele della banda, su di lui pende anche una condanna definitiva. Doveva essere in carcere, stavano fuggendo, ma nella notte si siano schiantati con l'auto. I carabinieri gli stavano alle costole. Vedete le foto del recupero dell'auto, dell'arresto dei tre romeni. E poi in basso la tensione, portati via tra le urla, la gente voleva linciarli. Ecco qui l'altra pagina che riguarda questa vicenda. Ecco chi sono i fermati, le loro facce, le foto, vedete qui dal centro. Il loro avvocato erano in vacanza e non fuggivano, sono estranei ai fatti. E le vittime degli altri ride pronti a riconoscerli. Fateci vedere le foto. Intanto carabinieri e polizia stavano lavorando in perfetta sinergia proprio per arrivare alla cattura dei banditi. E poi il loro covo in via Roma è nel cuore della città, il nascondiglio perquisito. Allora possiamo andare a vedere il servizio proprio su quanto è accaduto ieri a Lanciano. Ha subito dato i suoi frutti l'attività investigativa coordinata dalla procura di Lanciano sulla brutale aggressione subita dai coniugi Martelli nella loro villa in località Carminello a Lanciano. La notte tra sabato e domenica scorsi. Fermati tre romeni, due fratelli e un cugino di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di fuggire a bordo di una golf nera forse diretta in Romania. Addosso avevano anche 3.400 euro. La svolta nelle indagini condotte dalla squadra mobile di Chieti, dal commissariato di Lanciano e dai carabinieri della compagnia di Lanciano affiancati dagli specialisti dello SCO, servizio centrale operativo, è arrivata nella notte. I carabinieri di Lanciano hanno intercettato una golf nera con targa romena. Nel corso dell'inseguimento l'auto è finita fuoristrada. A bordo c'erano tre uomini. L'auto è stata portata al commissariato di Lanciano per essere analizzata. Si cercano riscontri validi attraverso impronte digitali e tracce biologiche. Due uomini sono stati condotti in procura. Un terzo è stato accompagnato dai carabinieri in un'abitazione in Corso Roma per eseguire degli accertamenti con l'aiuto della scientifica. Lo spiegamento di forze dell'ordine ha subito attirato l'attenzione di cittadini e passanti che si sono fermati allarmati e incuriositi, tutti con il cellulare in mano e pronti ad immortarare l'evento. Ecco all'uscita dell'abitazione in Corso Roma gli attimi di forte tensione. Secondo la testimonianza di un cittadino, il romeno sarebbe arrivato in quella palazzina con la famiglia una decina di giorni fa. Il giorno prima della rapina, sempre secondo quanto riferito dallo stesso cittadino, la polizia avrebbe fatto visita alla famiglia romena per dei controlli. Nelle indagini sulla rapina in villa sarebbe coinvolta anche una donna romena vicina ai banditi identificati. Il suo coinvolgimento non sarebbe diretto. La donna potrebbe aver fornito elementi utili ai connazionali in quanto collaboratrice familiare dei coniugi martelli. Per introdursi nella villa i ladri hanno forzato il lucchetto di un boccaporto attraverso il quale si accede in taverna. Da qui sono poi saliti al piano superiore dove hanno colto i coniugi nel sonno. Le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare anche quello che probabilmente è il capo della banda, non necessariamente di fuori regione. Non si esclude che l'italiano, citato anche nel racconto del dottor Martelli, possa essere residente nella zona di Lanciano della provincia di Chieti. Secondo quanto si apprende già in precedenti rapine, alcuni malviventi avevano fatto credere alle vittime di provenire dalla Puglia. L'arresto dei tre romeni è stato accolto dai coniugi martelli con sollievo «Mi sento davvero confortato da questa svolta nelle indagini, giunta così rapidamente», ha detto il chirurgo in pensione, «sarò più sereno anche nel rientrare a casa, dove non vedo l'ora di tornare recuperando la mia vita normale e la dimensione di riservatezza che da sempre la caratterizza». Ho riso testimonianza anche attraverso i media di quanto ho vissuto perché lo ritenevo un dovere di cittadino, ma ora è tempo che i riflettori non siano più accesi su di me. L'arresto dei tre malviventi è stato subito commentato con un tweet dal ministro dell'interno Matteo Salvini, coniugi massacrati a Lanciano in manette tre rumeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre forze dell'ordine, twitta Salvini, queste bestie devono marcire in galera. Toleranza zero. Questo è il servizio, vediamo un'altra pagina dedicata a questa vicenda. Niva si sfoga, io li perdono, lo Stato no, le hanno tagliato un orecchio, ma non chiede vendette, il marito dimesso dall'ospedale, torno a casa, voglio solo serenità. Poi vedete il post Twitter del ministro Salvini di cui si parlava nel servizio, in basso altre dichiarazioni, gli arresti che ridanno serenità alla gente. Dal sindaco di Lanciano Pupillo, al deputato D'Alessandro, il leghista alla canale, questo il commento unanime. Proseguiamo, lasciamo le pagine di cronaca nazionale, abbiamo già visto i titoli, dai quotidiani oggi ne dicola, siamo alla cronaca regionale, il centro verso le elezioni, ricorso al TAR contro la data del voto, Forza Italia impugna il decreto pubblicato ieri, e Pagano tende la mano a Bella Chioma, ma dà lo stop al sindaco Biondi. A ottobre, il mese della psicologia, incontri, seminari e consigli in tutto l'Abruzzo, organizzati dall'ordine regionale. Andiamo a vedere un'altra pagina del centro, è quella delle cronache dalle nostre province. Partiamo da Pescara, il mercatino bando per cento posti, fissate le regole per la legalità, il comune spegne le polemiche, annuncia l'avviso per avviare il commercio etnico e dell'integrazione, ma ci sono polemiche. Non venderemo più merce contrafatta, i senegalisi sul nuovo mercatino, è stata una battaglia lunga, ma ora ci comporteremo bene. Mensa scolastica, la questione mensa è a Pescara, si avvia a soluzione, perché la terza ditta, dice sì, la Serenissima accetta le condizioni del comune, oggi pomeriggio il vertice, asle, genitori, presidi, sulla doppia merenda. Museo del mare, progetto per l'ampliamento, via libera in consiglio, costerà 4 milioni e mezzo, sia il parcheggio da realizzare in strada delle casette. E poi sì, di Pescara al piano anti-smog in sei comuni, il consiglio da via libera, alle strategie condivise per combattere l'inquinamento atmosferico. Reate e tecnologie, la denuncia ai pescaresi, piace farla sul telefonino, bilancio della Questura, sull'uso di Upolli, programma da scaricare sul cellulare, segnalati tanti episodi di spaccio e bullismo, il questore Misiti dice, uno strumento utilissimo. Un parco giochi intitolato a Neri, domenica l'inaugurazione, giovane ucciso, lo scorso marzo, ricorderete questa vicenda, ci sarà proprio l'intitolazione di questo parco, ad Alessandro Neri. Andiamo avanti, addio a Santa Venere, pasticciere dei Colli, oggi alle 16 i funerali, aveva 75 anni. Andiamo ancora avanti, sempre un'altra notizia, che arriva da Pescara, Montone fugge dalla stalla, catturato a San Silvestro, l'animale è stato recuperato dagli agenti municipali, e poi la ventesima edizione di Abruzzo Sposi, sabato e domenica, al pala di Martin, di Montesilvano. Montesilvano, siamo proprio a Montesilvano, dove si parla di qualità dell'acqua e turismo, moria di pescine e saline, e allarme per il mare. Ma allarme anche per l'ennesimo episodio intimidatorio, che ha riguardato la Chiesa dei Santissimi Innocenti Martiri, rogo in Chiesa e sicurezza, il sindaco di Montesilvano Maragno si rivolge al prefetto. E poi baci stellari Valeria Marini conquista Montesilvano, la sublet testimonial di prodotti dietetici. E a Marina di Città Sant'Angelo manca il personale, chiude l'ufficio anagrafe. Andiamo ancora avanti, siamo a Francavilla, il futuro della città adriatica, il sindaco Luciani pronto a ritirare le dimissioni lunedì, dopo due settimane ancora nessuna indicazione, dal partito, disposto a fare marcia indietro e a ripartire fino al 2021. Interramento della ferrovia, siamo a San Giovanni Tiatino, Rete Ferrovia Italia dice sì al progetto. E poi in basso, Ultracycling Marathon, partenza questa sera da Francavilla al Salento, in ritorno l'impresa di 36 ciclisti. Siamo alla pagina della Val Pescara e dell'area Vestina, partiamo da Bussi sul Tirino, bonifica finanziata ma ferma, Bussi il sindaco interpella, il ministro e poi cultura, il caso Moro a Loreto con il libro di Simona Zecchi. Spostiamoci a centro pagina, Scafa, centri per l'impiego senza posta elettronica, denuncia dell'ospicio IGL, Val Pescara, e poi penne, domande per i danni del maltempo. Andiamo avanti, Castiglione a Casauria, cane finisce nel pozzo, salvato dai vigili del fuoco. Siamo alla pagina di Chieti, chiude il simbolo della città, il teatro Maruccino, torni ai teatini, lo sdegno dei cittadini, dopo l'annuncio del sindaco di primio, a causa del mancato arrivo, dei finanziamenti regionali. Parla anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, che dice che la temuta fine è solo propaganda elettorale. Parco commerciale, nuovo ricorso al Tari, il WWF si rivolge al Tribunale contro la proroga dei titoli edilizi dalla vecchia alla nuova proprietà. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Vasto, truffe con le auto, chiesti 28 anni di carcere per i raggiri sul web. E poi, ancora Vasto, fondi all'impresa, sportello aperto. E poi ancora, occupazione in basso, picchintone e denso, vertice con il sindaco, incontro aperto ai rappresentanti della regione, in discussione la zona economica speciale, con la possibilità di nuovi posti di lavoro, proprio nell'area industriale più importante, non solo della nostra regione, ma del centro-sud del paese. Siamo ad Ortona, negozi con affitti più bassi, aiutiamo il commercio, iniziativa d'Ortona di Confcommercio, l'intesa con i titolari degli immobili. Ancora Ortona, piano delle affissioni pubbliche, decoro urbano al primo posto. E poi a Fossacesia, turismo estivo, la cittadina frentana, si gode il successo, segnalate più presenze di stranieri. Andiamo in basso, ancora a Fossacesia, il Bonifica Sud pulisce i canali delle acque, a Tollo, danni da maltempo, avviso per i contributi. Siamo alla pagina di Teramo, parliamo di industria agroalimentare, dell'Amadori, che investe sempre di più nella nostra regione, con 36 milioni per i prossimi 5 anni, più linee di produzione a Mociano, un nuovo mangimificio. A Fossacesia, ieri i vertici dell'azienda leader in Italia, nel settore agroalimentare, hanno presentato proprio a Mociano Sant'Angelo i piani di sviluppo che riguardano la nostra regione. Possiamo andare a vedere dunque il servizio che abbiamo realizzato. Il gruppo alimentare Amadori punta sempre più sull'Abruzzo, con un ulteriore sviluppo, non solo nel sito principale di Mociano Sant'Angelo, ma anche negli stabilimenti di controguerra Castellalto e Fossacesia. Come hanno spiegato nell'incontro con la stampa la Corporate Image Francesca Amadori ed il direttore generale Francesco Berti, l'azienda romagnola, fra i più grandi gruppi alimentari del Paese e che nel 2019 taglierà il traguardo dei 50 anni di vita, mira a crescere e ad espandersi grazie al lavoro che nella nostra regione svolgono 2.200 dipendenti. Previsti dall'azienda romagnola investimenti in Abruzzo per oltre 36 milioni di euro fino al 2022, tra le priorità l'accrescimento dell'automazione, l'incremento degli spazi produttivi, l'aggiornamento degli impianti, investimenti sul welfare e investimenti sul parco allevamenti. Siamo arrivati negli anni 80, erano anni in cui siamo partiti da zero, abbiamo costruito la nostra filiera integrata, quindi siamo partiti dagli allevamenti per arrivare alle sedi di trasformazione alimentare e poi alla consegna del prodotto finito. Oggi con un nuovo piano di investimenti continuiamo a segnare la nostra presenza in Abruzzo. Sono più di 2.200 i lavoratori impiegati nella nostra filiera in Abruzzo e questo per noi è molto importante, il fatto che questo secondo polo di importanza nel gruppo si inserisce perfettamente nella filiera integrata Amadori. Questa è una delle più grandi realtà agroalimentari del nostro paese Italia e però è ancora un'azienda familiare, quindi a partire da Francesco Amadori oggi si susseguono anche le nuove generazioni. Ovviamente i numeri parlano chiaro, oggi noi abbiamo bisogno di nuove competenze, manager, quindi è diventata anche un'azienda fortemente managerializzata con know-how specifici, importanti, quindi è un'azienda di professionisti. Però ecco, c'è ancora la passione della famiglia Amadori. Amadori punta molto sulla nostra regione, sull'Abruzzo, non solo sul sito di Mosciano Sant'Angelo. Assolutamente sì, come dicevo abbiamo anche un altro sito di trasformazione carni, altrettanto importante come Mosciano e abbiamo una serie di siti di preparazione e allevamento dei nostri animali che sono sparsi per l'intera regione, assolutamente sì, per cui confermiamo l'interesse e gli investimenti nei prossimi anni in regione Abruzzo. Ovviamente gli investimenti portano occupazione, portano miglioramento fondamentalmente negli ambienti di lavoro e portano a soluzione di nuove persone. Siamo 2.200 qui in Abruzzo a livello di dipendenti, per cui il numero è sicuramente significativo e ovviamente puntiamo ad accrescerlo. Andiamo avanti, dopo terremoto a Teramo, i sindaci e in provincia di Teramo, il cratere sismico va rivisto dal tavolo istituzionale per la ricostruzione e parte un nuovo appello al governo. Ancora a Teramo, uffici sgomberati restano dubbi sul trasloco nei locali di via Irelli in basso, Cavuccio chiede decoro e dignità, i residenti sollecitano nuovi asfalti e il recupero dell'ex scuola dopo l'incontro avuto con il primo cittadino. Siamo ancora alla pagina, in questo caso, della provincia di Teramo. Prese le ladre acrobate in fuga da un balcone. Silvi ha appaltato il servizio scolabus per i prossimi due anni. Ad Atri, il distretto sanitario cade a pezzi, segni di degrado nell'edificio. Il sindaco lo sposteremo nel poliambulatorio. Siamo alla pagina dell'Aquila. L'operazione tra l'Aquila e la marsica della Polizia di Stato. Finti braccianti, veri spacciatori. Sette arresti. E poi terrorismo clandestino espulso dall'Italia. Vedete a fondo pagina. Vezzano, il nordafricano, ritenuto pericoloso, abitava in centro e aveva un elevato tenore di vita. Ancora l'Aquila. Ceneri trafugate da un'abitazione. Il caso nella frazione di Roio Poggio, denunciato da Casa Pound, che annuncia le ronde. E poi portatemi tre femmine, poi la carne e una birretta. Le intercettazioni. Singolare gergo tra indagati e consumatori. Per sviare gli investigatori. Ovviamente questo titolo riguarda la pagina precedente, ovvero proprio l'operazione che ha portato ai sette arresti. E poi ancora la cronaca. Trovata morta in casa, indaga la mobile. L'Aquila, la vittima è una donna di 45 anni. Tra le ipotesi, quella di un gesto volontario. Oggi sarà effettuata l'autopsia. E sempre oggi ci saranno a Magliano dei Marsi i funerali del vescovo Monsignor Santucci, amico di Papa Francesco. Aveva 89 anni. Una vita dedicata al Signore. aveva guidato la diocesi molisana di Trivento. Il ricordo dei fedeli. Ancora ad Avezzano, i foundry slittano i nuovi turni di lavoro. E poi, restando nella Marsica a Tagliacozzo. Tagliacozzo, la città che aiuta i disabili. Giovagnorio piace la mappatura del territorio. Con un'app è possibile segnalare gli ostacoli. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero. prima di fermarci per qualche attimo. Arancia meccanica a Lanciano. Sevizie, tre in manette. Fugge il capo della gang. Traditi dalla localizzazione dei cellulari. Erano sospettati degli assalti ai Bancomat. I coniugi massacrati. Niva, io perdono, ma lo Stato deve fare giustizia. Salvini, ministro degli interni. Marciscano in galera. Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Ora, certezza della pena. Siamo a Pescara. Mense, tempi lunghi per la scelta. Poi, nella tarda serata di ieri, è arrivato, come abbiamo letto precedentemente, l'accordo con la ditta serenissima. Intanto, l'inchiesta, caciotte avariate, avviso di garanzia per i due titolari del caseificio Leone. Jennifer, la Camera, la battaglia per l'abolizione del rito abbreviato. Siamo ancora a Pescara. Il mercatino etnico di qualità. Due mesi per fare la domanda. Il Comune ha pubblicato il bando. E poi, l'Abruzzo prende per la gola Milano il bis di Mediterranea. In trasferta. E poi, l'accordo ormai ufficiale. McDonald riaccende l'insegna di Guerino. Aggiorni la firma del contratto per il rilancio dell'edificio ristrutturato da Isaia di Carlo. Andiamo avanti. L'omertà protegge i piromani della chiesa. Nel quartiere nessuno parla. Non ci sono telecamere. È difficile per i carabinieri trovare riscontri ai sospetti espressi dal parroco della chiesa dei Santissimi Innocenti Martiri. Dopo il nuovo incendio, spacciatore a domicilio, finisce in manette la droga ceduta agli universitari. Andiamo ancora avanti. Ci spostiamo nella parte centrale della pagina. Caro Sangue, il fratello racconta la banda Battestini. Esce oggi il romanzo o fumetti di Roberto, il minore di Rolando e Pasquale, i banditi che dettavano legge negli anni. 70 e 80. Fantauzzi pestata in eccella. 5 condanne. E poi la notizia che riguarda l'informazione chiude il quotidiano online Prima da Noi. Il primo nato in Abruzzo. Parla il sindacato dei giornalisti abruzzesi che definisce proprio la chiusura di Prima da Noi. Una sconfitta. Andiamo avanti. Andiamo avanti per vedere la pagina dell'Aquila del messaggero. Precari della ricostruzione. Una proroga mascherata. E poi case ERP. Al via gli sgomberi da San Gregorio. E poi progetto case. Vedete in basso la notizia. Giovane madre si impicca. Da abbraccianti a spacciatori. Sette arresti. Operazione della polizia contro lo smercio di cocaina. Tra i luoghi del traffico il terminal di Colle Maggio e lo stadio. Per un'ottava persona è scattata la misura dell'obbligo di dimora. E poi andiamo in basso. Cultura giustizia di domani presenta il nuovo libro sulla grande scrittrice. Laudomia Bonanni. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Espulso marocchino, sospetto terrorista. Lo straniero abitava in un appartamento in centro cittadino e possedeva due auto, di cui una di lusso, Blitz, per catturarlo. E poi Avezzano. La strategia della Lega è illustrata in municipio. In basso andiamo a Sulmona. Chiuse tutte le palestre di proprietà comunali. Pesca a seloli. Un focolaio di anemia infettiva equina. E poi ancora ad Avezzano per la morte di Concia. Chieste nuove indagini. E poi la cronaca. Danni alle auto. Sempre ad Avezzano. Firmata un'unica denuncia. Pagina di Chieti del messaggero. Notte dei ricercatori. La città è in festa. E poi il Marruccino ucciso dalla burocrazia, dal bicentenario a rischio di chiusura. Una situazione che non trova giustificazione, dice Giampiero Perrotti, giornalista storico e personaggio importante della cultura teatina. Il giorno dell'addio ad Emiliana e Marco, San Salvo, giovani vite spezzate. Oggi si terranno a San Salvo e a Fresa Grandinaria i funerali dei ragazzi morti nell'incidente in moto. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Regione Comuni denunce contro i furbetti del sisma. E poi l'Amador investe e fa altre assunzioni. Abbiamo visto prima il servizio. Pineto prese le ladre acrobate, una in minorenne. E poi il giallo della morte di Giulia Di Sabatino a Tortoreto. I familiari chiedono il proseguimento delle indagini. Infine siamo ancora alla cronaca che riguarda la sicurezza. Il post terremoto, sgombero di Palazzo Pompetti, ordinanza anche per i negozi. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo fermarci per qualche attimo. Poi torneremo in studio. Andremo a vedere le pagine interne del quotidiano. E poi parleremo diffusamente di sport. La seconda parte di mattino 6. Siamo alle pagine del quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca regionale. Tre arrestati per la rapina in villa a Lanciano. Abbiamo visto prima il servizio. Dunque ampio spazio anche sul quotidiano La Città su questa vicenda. E poi in basso, seditoria, mobilitazione e solidarietà per la chiusura del giornale online prima da noi. Proseguiamo. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda l'occupazione della vertenza Ipersimpli. Stallo sugli incentivi ai trasferimenti. E poi in basso, Giulio Filippo Taro interverrà alla Facoltà di Scienze Politiche e alla Conviviale in suonore illuminare dei vaccini. Ospite domani del Rotary Club di Teramo. Notificato lo sgombero sempre a Teramo di Palazzo Pompetti, pubblicata ieri sull'albo pretorio. L'ordinanza consegnata poi ai residenti e alle attività commerciali della struttura inagibile. Sindaci preoccupati, sindaci del Teramano, per il caos nella ricostruzione. In basso, gli infermieri rispondono all'appello della FIDAS a Teramo. Numerosi iscritti all'Opi si sono recati a donare il sangue. Ancora a Teramo un bando per la gestione del parco fluviale. L'idea dell'assessore di Buonaventura per affidare gli spazi verdi alle associazioni ambientaliste e ai privati. E a Teramo domenica torna l'appuntamento con Puliamo il mondo di Lega Ambiente. A Teramo il sindaco prova a fermare la secessione di Cavuccio. sopra il luogo di Gian Guido D'Alberto per ascoltare i problemi dei cittadini che minacciano di passare nel comune di Torricella. Leandro Bracco riaccende i riflettori sulla torre. Il consigliere regionale chiede alla regione un intervento per bonificare definitivamente la discarica crollata nel 2006. Andiamo avanti per vedere un'altra pagina. quella che riguarda l'Amadori che investe 36 milioni di euro sul territorio. Lo stabilimento di Mosciano diventerà la più importante piattaforma logistica nel centro-sud del gruppo industriale. Abbiamo visto poco fa il servizio anche con l'intervista a Francesca Amadori. Niente sospensiva per il calendario venatorio. Il Tar deciderà nel merito il 10 ottobre sul ricorso presentato dalla Federcaccia soddisfatto Morelli. E poi Pietracamela, bando pluriennale per gli impianti dei prati di Tivo. E poi il caso mia figlia disabile va a scuola senza avere un insegnante di sostegno. Questa è la denuncia di una mamma teramana. La morte di Giulia Di Sabatino. La famiglia si oppone all'archiviazione bis depositata ieri dall'Avvocato Di Gaspare. La memoria con la quale invita il GIP a non chiudere. Il caso. Vediamo anche nella parte bassa della pagina. La cronaca sindacale. Congresso provinciale della FIOMMA contro guerra. Durante l'incontro verranno scelti i delegati e rinnovate le cariche interne. Ancora avanti con un'altra pagina sempre del quotidiano. La città Tortoreto. Sequestri per 58 mila euro durante l'estate. L'amministrazione comunale fa il resoconto dei risultati raggiunti grazie al progetto Spiagge Sicure. E poi Giulia Nuova. Retco chiude la porta a Fratelli d'Italia. E poi salute. Incontro in Sala Buozzi sul metodo per imparare a ridurre lo stress. Giulia Nuova. Sempre la cronaca. Questa sera cronaca politica. Questa sera l'assemblea sul progetto dell'ex Saddam. Siamo alla cronaca di Roseto e Pineto. Atri e Sili dunque il litorale terramano. Roseto locali di Casa Rosa consegnati all'Asle per la postazione del 118. E poi ancora Roseto. Picchia la moglie e la lascia fuori casa. Processo un 47enne. E poi Pineto. Ladre acrobate arrestati dai carabinieri. Mentre erano ancora appese al balcone. Siamo a Colonia. Realizzazione della palestra al rischio per le lungaggini burocratiche. Pagina della cultura. Dal Colibri l'omaggio a Domenico Modugno. Parte la stagione concertistica dell'ensemble in cartellone. Anche a Solini e Solima. Siamo arrivati dunque alle pagine dello sport. Ripartiamo, partiamo, pardon, anzi, dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Gazzetta dello sport, palla a loro. Juve-Napoli a tutto. Era lo scontro verità. Sabato a Torino è già mezzo e scudetto. Ma ieri si sono giocate le gare di campionato. Sesta giornata, martedì, l'anticipo con la vittoria dell'Inter con la Fiorentina per 2-1. E poi ieri Udinese-Lazio 1-2. Atalanta-Torino 0-0. Cagliari-Sandori a 0-0. Genova-Chievo 2-0. Juve-Bologna 2-0. Napoli-Parma 3-0. Roma-Frosinone 4-0. Questa sera due posticipi alle 19 Spal Sassuolo, alle 21 Empoli-Milan. Vediamo il Corriere dello Sport. Juve-Napoli continuano a volare. Si sblocca anche per la Juventus di Bala. Nel Napoli Bomber-Insigne. Tutto sport. Juve 6-3 Menda. Ancora una vittoria dei bianconeri che restano in testa alla classifica. Andiamo a vedere le pagine dello sport regionale partendo dal centro. Pillon cambia tutti tranne tre. Finora cinque squadre diverse. Ma Gravion, Brugman e Memuschai sono intoccabili. Vedete nello schema le formazioni schierate da Pillon. E intanto slitta a oggi la sentenza del Tar. Sei società in attesa di risposte. Vedremo se riusciremo a capire e a sapere oggi se la Serie B proseguirà con 19 squadre. O se il numero aumenterà. Coppa Italia ha superato il primo turno. Coppa Italia campionato primavera di calcio dalla primavera del Pescara che passa a Empoli. Ma ieri sera si sono giocati due posticipi del campionato di Serie B della quinta giornata. Con la vittoria e rimonta del Foggia con il Padova. Prossimo avversario del Pescara per 2-1. Ed il successo della Cremonese per 2-0 sul Cosenza. Partiamo ora di Serie C della giornata di ieri di campionato. Teramo il vantaggio dura solo due minuti. 1-1 tra Imolese e Teramo al Galli di Imola. Biancorossi in vantaggio subito raggiunti. Zichella il nostro piano ha funzionato. Tra poco vedremo anche l'intervista del tecnico Biancorosso realizzata da Jacopo Forcella ieri a Imola. Vediamo però prima cosa dice e cosa scrive il messaggero sul Pescara. Mancuso, Brasil, sombrero e gol. Grande protagonista anche nella gara con il Crotone. E poi Serie B a 19 e il caos ripescaggi. Oggi probabilmente la verità. E poi il Delfino ora sa tirare fuori i denti. Questa è la principale qualità messa in mostra dai Biancazzurri nella partita con il Crotone. Nel Teramo c'è Speranza a Imola e 1-1. Vediamo anche come commenta il quotidiano La Città il pareggio del Teramo in terra emiliana. Punto d'oro a Teramo. A Imola finisce 1-1. Noi andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata col tecnico Zichella. Mister Zichella, la buona notizia è che il Teramo almeno in zona gol si è sbloccato. La cattiva è quel gol subito dopo il vantaggio. Sì, di fatti quando abbiamo fatto il gol ho pensato oh finalmente non stiamo facendo benissimo come le altre due partite e forse riusciamo a portare i tre punti a casa. Continuiamo a fare delle ingenuità. Dovrei ripetere e dire che oggi giocavano 5-6-7 giovani e qualche ingenuità c'è, però adesso dobbiamo eliminarle. Siamo già alla terza, si arriva un cross dal fondo la devo respingere, la prima regola sulla calcio in fallo laterale e non in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, prendiamo la marcatura e prendiamo gol. È giusto che prendi gol e quindi non vinci la partita. In questo sono un po' arrabbiato. Altra cosa da salvare probabilmente è che questa squadra ha saputo soffrire nella parte finale in cui Limolese cercava la vittoria che ci ha dato anche vicino. Io non mi sento di dire niente ragazzi, devo essere sincero, con l'impegno, poi io ce l'ho tutta la settimana, oserei dire un po' da libro cuore che vivo per loro, nel senso che passo tutta la giornata a pensare come poterli aiutare. Quindi loro penso che questo lo sappiano, in cambio non c'è un calciatore che si risparmia di mezzo centimetro. Di questo li voglio ringraziare pubblicamente. Il Trident è completamente nuovo oggi, soddisfatto? Sì, soddisfatto perché l'età media non la diciamo. Mi è piaciuto Fratangelo perché non era facile giocare contro Limolese che come avevo detto in conferenza stampa è una squadra che farà bene quest'anno, farà anche parecchi punti perché è una squadra quadrata dove gioca bene, sono organizzati e mi piace. Posso chiederle il cambio di Persia, ok, era abbastanza scontato per Ranieri. Alto Bellicaidi per raggiungere i centimetri? Problema fisico, ha preso una botta dietro la schiena e mi ha chiesto il cambio. Cambio obbligati sono stati Persia che non ha minuti nelle gambe, Alto Belli che ha preso una vecchia dietro la schiena, e Fratangelo mi ha chiesto il cambio che aveva i crampi al polpaccio. Adesso subito in campo, di nuovo il Gubbio, non ci sarà tantissimo tempo, così come è stata per questa partita per prepararla. Non abbiamo tanto tempo per preparare la partita, però ho dei ragazzi fantastici che sono sicuro che daranno di nuovo tutto e cercheranno di vincere per la prima volta in questo campionato. Queste le parole di Zichella dopo il pari di Imola. Vediamo la Serie D, andiamo a vedere subito i primi servizi, partendo dal Francavilla che batte al Valle Anzuca il Montegiorgio per 2-1, Banegas sale in cattedra, Francavilla senza Silli riscatta la sconfitta di Campobasso. Andiamo a vedere il servizio di Ania Cantagalli. Il Francavilla centra la seconda vittoria consecutiva al Valle Anzuca, battendo 2-1 il Montegiorgio. Rachini cambia qualcosa rispetto alla gara persa a Campobasso, con Sanchez che prende il posto dello squalificato Cruz in avanti. Dall'altra parte Paci conferma il 3-5-2, mandando subito in campo l'extermo Scipione in difesa. I marchigiani sembrano partire meglio con Sbarbati, che prova e riesce a scavalcare Spacca dopo due minuti, ma il direttore di gara ferma tutto per l'azione a gamba tesa portata avanti dall'attaccante. È però un super Banegas a fare le fortune nel primo tempo per i padroni di casa. L'attaccante giallorosso al quinto fa partire un bel mancino, che coglie di sorpresa perfetti per il vantaggio del Francavilla. Il Montegiorgio dopo 5 minuti ha l'occasione per rispondere, con l'azione forse viziata da un fallo subito da Di Renzo, ma non ravvisato dal direttore di gara. La palla arriva poi nei pressi di Regolanti, che in scivolata manda incredibilmente alto. È ancora Montegiorgio al 24esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione De Lucia impatta di testa il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Il Banegas Show prosegue al 26esimo. L'attaccante raccoglie col mancino una punizione di Palumbo e piazza di nuovo la sfera alle spalle dell'estremo difensore ospite. Racchini però perde Sanchez, toccato duro ad una caviglia. Al suo posto entra in campo De Costanzo, con Paravati che si sposta per fare il centro avanti. Al 40esimo è bravo, spacca a chiudere sui sbarbati, ma nel recupero la ghiotta occasione per il 3-0, passa tra i piedi di Palumbo, con il tentativo del giocatore giallorosso, che viene messo in angolo da perfetti. Nella ripresa è Caffiero a sfiorare il trist con un colpo di testa dagli sviluppi di una punizione, che il difensore però alza sulla traversa. Paci cambia poi tre uomini su cinque del centrocampo per cercare di ravvivare una squadra che fa fatica a costruire, ma le cose non cambieranno granché. Al 21esimo Palumbo e tutto il Francavilla protestano per un presunto fallo di mano di Scipioni, che però cade lamentando una pallonata sul viso. I ritmi si abbassano progressivamente, con i giallorossi che tengono in mano il match, ma che rischiano di complicarsi la vita quando Bedin si vede estrarre il secondo giallo, lasciando dunque al sitempo il campo. I giallorossi, fino a quel momento padroni della gara, assistono in pieno recupero anche la decisione del direttore di gara di assegnare un calcio di rigore per il fallo di Nazari sul Marchionni. Dal dischetto proprio Marchionni accorce le distanze. Nel finale però non ci sarà un vero e proprio forcing da parte dei marchigiani, che hanno, in un calcio di punizione battuto sulla barriera da Omiccioli, l'ultima occasione per pareggiare. I giallorossi di Rechivi riprendono dunque la marcia dopo la sconfitta a Campobasso. All'orizzonte c'è adesso il derby in casa della Vastese da affrontare sicuramente senza Kuz e Bedin. Alla squadra del momento è sicuramente il notaresco del presidente Salvatore Di Giovanni. Tre gare, nove punti, a punteggio pieno. la formazione di mister Cudini. Un altro blitz, questa volta in terra molisana. 2-1 per il rosso-blu sul campo dell'Olimpia agnonese. Cudini dice ci godiamo il momento, ma sicuramente un magic moment per la formazione teramana che prima in classifica a punteggio pieno e si prepara alla prossima gara casalinga con l'obiettivo di proseguire con la striscia di vittoria. Allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria esterna del notaresco ad Agnone. Nel turno infrasettimanale di Serie D l'Agnone perde in casa per 1-2 contro il San Nicolò notaresco una partita che i padroni di casa hanno condotto egregiamente per la prima mezz'ora di gioco prima che il San Nicolò tirasse fuori tutta la propria grinta per accaparrarsi i tre punti. E non è bastato l'ingresso in capo fin dai primi minuti di gioco del nuovo arrivato Luca Ricciardi classe 1989 centrocampista di spessore che vanta presenze anche in Serie B come nel Latina ma andiamo alla cronaca del match primo squillo arriva al nono minuto di gioco proprio con Ricciardi che su calcio di punizione non inquadra lo specchio della porta per pochissimo poco male perché un minuto dopo è la Min che dopo una ripartenza in contropiede infila la rete rosso-blu ed è 1-0 per l'Agnone. I ragazzi di Mister Mecomonaco sembrano davvero padroni del campo e lasciano poco spazio agli avversari li vediamo infatti al ventesimo minuto su un insidioso calcio piazzato dai 25 metri di Minella ma è il numero uno di casa, devia in angolo al 32esimo l'insidia si trasforma in un pareggio ottimo schema sul calcio di punizione di Liguori che infila la rete di Kuzmanovic per l'1-1 sul pareggio dunque si vanno gli spogliatoi a rientro in campo il San Nicolò Notaresco sembra più concentrato dell'Olimpia Agnonese che si ritrova praticamente sotto assedio al sesto minuto Kuzmanovic riesce ad intercettare un tiro insidioso di Liguori all'ottavo è l'ex di turno di Lollo che va di poco a lato con un tiro raso terra al decimo minuto vediamo l'Agnone con un ottimo Antonelli uno dei migliori in campo in questo match ma il suo tiro al volo viene deviato in corner da Monti siamo al quindicesimo e sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo la difesa Granata si imbambola lasciando spazio a Salvatori che mette la firma sull'1-2 finale c'è ancora spazio per i padroni di casa per ragguantare almeno il pareggio ma non ci riesce nonostante due nette occasioni almeno al ventunesimo con un Antonelli da brivido che va al lato di poco e al quarantaquattresimo sempre con Antonelli che ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma Monti si tuffa e salva tutto il San Nicolò Notaresco se ne torna a casa con un bel bottino che segna punteggio pieno in classifica l'Agnone inchiodata ancora a zero punti deve assolutamente lavorare sodo per allontanare questo avvio di campionato piuttosto inglorioso proseguiamo con le gare di Serie D ieri il turno infrasettimanale Di Paolo non basta Zuppardo rovina la festa al Giulianova Zuppardo che aveva segnato anche nella gara della San Maurese a Vasto San Maurese-Real Giulianova 1-1 il risultato finale ma la squadra che sta più deludendo in questa prima parte di campionato è la Vastese la difesa fa acqua e la Vastese crolla anche a Monte San Giusto 3-0 il finale con la netta vittoria della formazione marchigiana in testa alla classifica punteggio pieno con il Notaresco allora andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato al Villa San Filippo per San Giustese-Vastese Buio Pesto in casa Vastese con un punto in tre gare una squadra senza gioco idee e identità e la panchina del tecnico Ottavio Palladini già fortemente in bilico in vista del derby di domenica prossima all'Aragona con il Francavilla dopo la sconfitta all'esordio a Matelica ed il pari casalingo con la San Maurese questo pomeriggio Fiore e compagni sono usciti sconfitti dal campo della capolista San Giustese con un netto 3-0 al termine di 90 minuti ancora deludenti ma a preoccupare non sono tanto i numeri seppur negativi della squadra quanto la condizione generale dell'undici aragonese apparso anche oggi quasi irriconoscibile rispetto alla gara di domenica scorsa Palladini manda in campo dall'inizio Stivaletta Gian Paolo e Viscardi per il resto la formazione è la stessa di 4 giorni fa il modulo è sempre quello del 4-3-3 fra i marchigiani riflettori puntati sull'ex Pineto Pezzotti mister Senigallesi si affida al 4-2-3-1 sole al Villa San Filippo dove ad assistere a San Giustese e Vastese ci sono 400 spettatori con una trentina di sostenitori abruzzesi partenza equilibrata con una buona opportunità al decimo per i locali con Laringe che in aria dopo un contrasto favorevole conclude da posizione angolata con Morelli che para al dodicesimo Stivaletta risponde per gli ospiti con una conclusione dalla distanza centrale che non impegna il portiere di casa al ventesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione Pallas Cognamiglio che in aria tira centralmente al ventunesimo arriva il vantaggio dei padroni di casa il portiere Morelli entra in contatto con Chedira in aria Vastese con il giocatore Marchigiano che termina a terra e con il fischietto degli Carpini di Sernia che indica il dischetto dagli 11 metri Marco Pezzotti con un tiro angolato non sbaglia supera Morelli per l'1-0 di casa per la terza volta in stagione inizio in salita per i biancorossi che stentano a reagire palesando i soliti problemi di gioco gli abruzzesi hanno soprattutto problemi ad arrivare negli ultimi 18 metri e concludere in porta riuscendo solo in qualche occasione e dalla distanza a calciare il pallone verso l'estremo di casa come al 37esimo con un tiro a lato di poco di Giampaolo al 43esimo però arriva il raddoppio dei padroni di casa con Chedira che supera i difensori aragonesi come Birilli prima di entrare ancora in contatto in aria con il portiere Morelli come al 22esimo degli Carpini indica il dischetto con lo stesso Chedira che realizza il gol del raddoppio per la vastese Buio Pesto con il ritorno in campo delle due squadre nella ripresa sul 2-0 locale e con Napolano al posto di Stivaletta fra i biancorossi ospiti la squadra di Palladini inizia in attacco la ripresa con una buona opportunità per Fiore al quarto con Chiodini che però salva all'undicesimo si infortuna nuovamente Viscardi che viene sostituito dai Arocci con Palladini che manda in campo anche Ridolfi per Pagliari al 17esimo nuova fiammata ospite con Fiore ma Chiodini è attento e para preme più con la forza dei nervi che altro la squadra aragonese con il tecnico abruzzese che al 27esimo sostituisce anche Fiore con Shiba mentre il match si avvia all'ultimo quarto d'ora con l'ovastese che resta anche in 10 alla mezz'ora per la seconda ammunizione dunque il rosso per D'Alessandro in inferiorità numerica per gli ospiti si fa ancora più dura anche perché Chiodini è in giornate al 34esimo dice no anche a Napolano su punizione poi le ultime fasi di gara e al 49esimo il tris locale con la rete di Camillucci su punizione e al 91esimo squadra biancorossa sotto il settore dei propri tifosi domenica prossima all'Aragona con il Francavilla non si potrà sbagliare risorge l'Avezzano che segna 5 gol al Castelfidardo il servizio tre punti per scacciare le paure ed invertire la rotta per l'Avezzano è già una partita importante nel turno infrasettimanale del girone F di serie D al Dei Marzi arriva il Castelfidardo per cancellare la beffa di Giulianova e lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica la sfida tutta bianco-verde può già scrivere un nuovo inizio turnover per mister Giampaolo che barra la baby difesa con Schirone Puglielli e Di Gian Felice e lascia a riposo Capitan Man sulla tre quarti c'è Jonathan Alessandro con Cerone e Pellecchia a supporto di Dos Santos tra i pali esordio da titolare per Franca Bandiera dopo due minuti di gioco è dell'Avezzano la prima occasione con Pellecchia che calcia dal limite e trova la deviazione della difesa avversaria cinque minuti più tardi Rivi per poco non impensierisce Franca Bandiera con un tiro da fuori aria l'Avezzano fatica a costruire il gioco ma al quattordicesimo va in vantaggio grazie ad un gran sinistro di Michele Bisegna che si insacca sotto l'incrocio al ventunesimo però un buco della difesa bianco-verde spalanca le porte a Calabrese che di destro confia la rete uno a uno meritato per i marchigiani al trentaduesimo l'Avezzano prova a reagire ma il tapin di Cerone è respinto dal palo alla sinistra di Bottaluscio dodici minuti più tardi è ancora il capitano bianco-verde di giornata ad impensierire l'estremo difensore ospite che se la cava in due tempi squadra al riposo sul risultato di uno a uno nella ripresa Giampaolo lascia negli spogliatoi Schirone e manda in campo Besana i marsicani iniziano a fraseggiare con qualità e al quinto minuto trovano il vantaggio con un gran sinistro da fuori di Federico Cerone che bacia la traversa e va ad inzaccarsi alle spalle di Bottaluscio all'undicesimo Dos Santos sfiora il tris ma il portiere ospite è bravo a disinnescare il calcio di punizione del brasiliano al sedicesimo si vede il Castelfidardo con il tiro di Trillini che va fuori di poco tre minuti più tardi Bisegna e Illumina per Dos Santos che con un pallonetto millimetrico supera Bottaluscio per il tris dei marsicani poker di Biancoverdi che arriva al ventiduesimo grazie ad un calcio di punizione di Federico Cerone che trova l'angolino alla sinistra del portiere ospite al dei marzi l'atmosfera si fa più distesa e Giampaolo fa esordire Conti e Dosa per Cerone e Bisegna Mister Pazzaia corre ripari inserendo Pigini Grazioso Masso e Mialov per Lombardo Giovagnoli Bracciatelli e Trillini in pieno recupero arriva il sigillo del 5 a 1 Biancoverde grazie al neo entrato Dosa esterno offensivo classe 2000 tre punti importanti per l'Avezzano che annulla la penalizzazione e si porta a quota zero il vero campionato dei Biancoverdi inizia da oggi Pareggio in terra romagnola per il Pineto che sbatte sul baby mordenti il portiere del Forlì nega in almeno tre occasioni il gol ai pinetesi Forlì Pineto finisce così 0 a 0 il servizio Finisce a senza reti la gara del Tullo Morgagni tra Forlì e Pineto partita solo a tratti piacevole in un clima primaverile e che la squadra adriatica interpreta con buona personalità a cui manca però il sostegno solamente del gol che avrebbe indirizzato la partita Amalo si affida a Pedalino come riferimento centrale d'attacco con Massa e Camplone a dargli sostegno Amadio in campo dal primo minuto mentre dietro c'è Orlando e non Pepe a far coppia compomante nel Forlì 4-3-1-2 non c'è lo squalificato Mazzotti al suo posto in mezzo al campo Prati Tonelli tra le linee per provare ad ispirare Castellani e l'ex Terramano Alex Ambrosini Pineto in evidenza già in avvio della quercia al sesto pennella il traversone che Pedalino gira verso Mordenti bravo ad alzare in corner la traiettoria dell'attaccante Biancoazzurro ospiti più spigliati Biancorossi di casa che fanno fatica nella manovra che solo al diciannovesimo si affacciano dalle parti di Fargione con il corner di Ambrosini che pesca a Brunetti il cui colpo di testa si perde fuori in un soffio parte centrale di match abbastanza noiosa e rotta dall'occasione che fortunato si ritrova al 33esimo sul piattone destro dopo un corner di Marianeschi la battuta del centrocampista è troppo debole e Mordenti si salva con una rispinta così come al 36esimo fa Fargione dall'altra parte quando Ambrosini prova a bucarlo con il diagonale mancino servito da Castellani il portiere ospite fa buona guardia il pineto torna a farsi vedere al 43esimo con la discesa di Massa che conclude l'azione personale con una sventola che passa però alta sopra la traversa la squadra di Amaolo si ripresenta dopo l'intervallo con lo stesso spirito è fortunato al 54esimo a chiamare Mordenti alla risposta prodigiosa sulla punizione bomba che calcia la posizione peraltro defilata occasione colossale per i biancazzurri e il Forlì tira un sospiro di sollievo poi tanti troppi minuti nei quali il pineto nonostante una buona prestazione non riesce a trovare lo spazio giusto per colpire i galletti che ridisegnano l'attacco con Graziani prima e ferre poi per Castellani e Ambrosini proprio quel Graziani che al 62esimo viene anticipato a ridosso della porta biancazzurra su assist di Tonelli le ultime emozioni nel recupero al minuto 92 Porrini pescato all'interno dell'area di rigore da Marianeschi alza troppo la traiettoria mentre al 94esimo il Forlì protesta per un contatto tra Cortesi e Fargione che Bianchini giudica regolare con il numero 26 che rimedia anche un cartellino giallo poi più nulla fino al treplice fischio che conferma i progressi del Pineto che ora dovrà vedersela con la San Giustese al Mariani Pavone già domenica per un match davvero da non perdere abbiamo già sforato ma dobbiamo andare a vedere i risultati della giornata di promozione di campionato turno infrasettimanale Lanciano Sant'Anna 3 a 0 San Salvo Bagicalupo Vasto Marina 1 a 1 Ovidiana River 65 0 a 2 Casolana Bucchianico 1 a 2 Fossacesia Ortona 2 a 6 Casalbordino Valdisangro 1 a 1 Fater Raiano 0 a 0 Piazzano Passo Cordone 0 a 3 Scafa Villa 2015 2 a 1 vediamo il Girone A Castelnuovo Pucetta 2 a 1 Mosciano Montorio 0 a 2 Real Atria Sportland Celano 1 a 2 Rosetana batte il Mutignano 4 a 1 San Gregorio Angizia Lucco 0 a 2 Sant'Omero Piano della Lente 0 a 1 0 a 1 anche Borgo Santa Maria Nuova Sant'Egidiese torna in parte Fontanelle 2 a 2 Tossicia Morrodoro 1 a 1 Siamo davvero in conclusione dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà come sempre domani io vi rimando invece alla prima edizione del nostro telegiornale alle 14 vi ricordo questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 ve lo con Jacopo Forcella per parlare di ciclismo ovviamente insieme a Luciano Rabottini buona giornata a le Grazie a tutti